Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un money glitch, soldi infiniti ragazzi, veramente facile facile da fare con un amico E quali sono i requisiti ragazzi? Un amico, una sessione solo a inviti, il nostro amico non deve avere nessun requisito ragazzi Allora l'unica cosa che dovrà fare il nostro amico è fuori dalla base operativa ovviamente, andare in un lavoro da titano, aprire la missione o starla e poi uscire dalla missione Questo dovrà farlo prima di entrare nella nostra base operativa Dopodiché noi dovremo invitare il nostro amico nella nostra base operativa ragazzi Vi ricordo la sessione solamente a inviti, altrimenti vi farà unire al vostro amico e non riuscirete a fare il glitch Quindi mi raccomando, sessione solo a inviti Quindi a questo punto, una volta che il nostro amico entrerà nella nostra base operativa Dovrà ripetere esattamente la stessa cosa che ha appena fatto fuori dalla base operativa Quindi il nostro amico andrà in attività, create da Rockstar, un lavoro da titano, entrerà nella missione e chiuderà la lobby Dovrà semplicemente ogni tanto ricordarsi di muovere freccia giù o freccia giù, su, scusate Perché altrimenti verrà cacciato dalla lobby Questa è l'unica cosa che dovrà fare il nostro amico Tutto il resto ragazzi dovremo farlo noi Quindi a questo punto l'unica cosa che dobbiamo fare è salire sulla nostra auto Quella che vogliamo duplicare e che dovrà avere una targa personalizzata ragazzi Mi raccomando, anche perché tutte le auto che noi andremo a duplicare Avranno la stessa targa e quindi poi incapperemo nel blocco giornaliero e altre cose Quindi a questo punto, una volta che abbiamo il tutto Siamo in parti con il nostro amico Facciamo un partecipa a sessione Lo cancelliamo Lo rifacciamo un'altra volta Giusto per capire se è veloce il caricamento Come avete visto è molto veloce Quindi facciamo partecipa a sessione R2 velocemente Accettiamo il primo messaggio E poi avremo un secondo messaggio in cui dovremo attendere 60 secondi Guardate il cronometro in alto a destra Intanto ragazzi in questi 60 secondi colgo l'occasione per ricordarvi tutti i miei contatti che trovate in descrizione ragazzi Ci trovate anche il mio gruppo telegram e il mio canale telegram Il canale ragazzi è un semplice canale dove diciamo mando i feed ogni volta che carico il video Invece il gruppo ragazzi potete entrarci tranquillamente se avete voglia di una chiacchiera Di cazzeggiare, di farvi una risata O se avete anche bisogno di un aiuto per fare glitch, scorte o molto altro Insomma quello che volete potete entrare nel gruppo e chiedere tranquillamente un aiuto Invece vi ricordo i due contest che sono appena aprite la descrizione Uno è mio e uno di Dark Glitch Quindi mi raccomando non lasciate partecipo sotto questo video che non serve a nulla Ma aprite i link in descrizione e lasciate partecipo lì Una volta che saranno passati i 60 secondi ragazzi dovrete schiacciare Y E vi ritroverete buggati sotto la mappa A questo punto una volta che sarete buggati sotto la mappa L'unica cosa che dovrete fare è accelerare Tenere R2 premuto Come vedete io qui scendo dall'auto e vi faccio vedere che l'auto non compare in mappa Come se non fosse mia Però è mia ragazzi Potremmo metterla in garage Quest'auto è pubblicata, è nostra Quindi ripeto ancora una volta ragazzi Mi raccomando le targhe personalizzate Perché come andremo a vedere Tutte le auto avranno la stessa targa Quindi o targhe personalizzate o targhe invisibili per fare questo glitch Sono necessarie ragazzi Sono indispensabili Quindi mi raccomando fate bene attenzione a questo passaggio Perché altrimenti potrete incappare nel blocco giornaliero E potrà risultare molto molto fastidioso ragazzi Quindi a questo punto che cosa faremo Andremo nel garage più vicino a noi Io uso questo ragazzi Voi non so Fate voi Comprate quello che avete più vicino Quello che volete E andremo a tirare fuori il nostro veicolo Qui fa un po' i capricci Non mi fa entrare Vado sul pallino azzurro Ed entro ragazzi A questo punto Entriamo nel nostro garage Che dovrà comunque contenere delle auto Ragazzi Fate questo passaggio Perché se magari avete un posto libero Vi cambierà solamente di posizione l'auto Dalla base operativa al garage Quindi mi raccomando Fate bene questo passaggio Tirate fuori un'auto dal vostro garage In questo caso la LGRH8 Da sacrificare E ci mettete dentro questa ragazzi Non appena entrerete Vi farà un piccolo bad Vi sdoppierà l'auto sul momento Ma poi scomparirà Non appena scendete dall'auto Quindi non vi preoccupate Che è tutto normale L'auto si sarà duplicata Come vedete L'auto si sarà duplicata A me è duplicata Stile tartaruga capovolta Dark sempre in mezzo Stile tartaruga Sempre in mezzo Comunque Adesso la vado a scambiare Per poterla prendere Allora ragazzi Qui l'auto è già duplicata Questo passaggio Che io sto facendo adesso Cioè Tornare alla base operativa Voi non dovete farlo Però io ci torno Solo per farvi vedere Che l'auto è stata duplicata E che le targhe sono uguali Ragazzi Quindi Ripeto per l'ennesima volta Mi raccomando Targhe personalizzate O invisibili Ragazzi Per mettere una targa Personalizzata Batterà andare Sull'app di iFruit Se non avete Mai preso Un blocco giornaliero Vi troverete Strada libera Perché vi lascerà Mettere le targhe Tranquillamente Invece per chi ha preso Il blocco giornaliero Già più di qualche volta Consiglio di usare Un'auto Con targa invisibile Quindi a questo punto Ragazzi Che cosa dobbiamo fare Nulla Io come ho già detto Sto rientrando Nella base operativa Ma non per perdere tempo O per fare un video Più lungo Ma semplicemente Per portarvi La prova Che l'auto Sia duplicata Quando rientrate Nella base operativa Ragazzi Apparentemente Non troverete La vostra auto Quella che avete Appena duplicato Però Non è un problema Basterà fare Semplicemente Un piccolo cambio Di posto Tra un'auto E l'altra Perché comunque La vedrete in lista Sarà invisibile Ma la vedrete in lista Quindi Basterà fare Un piccolo cambio Da un posto All'altro E l'auto Vi ricomparirà Automaticamente Dentro la base operativa Alcuni pensano Che si duplica In questo momento Ma non si duplica In questo momento Ma si duplica Nel momento In cui Voi uscite La prima volta Dalla base operativa E vi trovate Pagati sotto mappa Però Adesso andiamo A vedere Come far comparire L'altra auto Come avete visto Non c'era Non era presente Ma adesso Andiamo Verso Il pallino azzurro Ci mettiamo qui E scambiamo La Sultan Che era la prima Con l'altra E abbiamo Le nostre Due Sultan Ragazzi Quella che avevamo Messo nel garage E quella che avevamo Nella base operativa Adesso Vado vicino Le auto Vi faccio vedere Che le targe Sono completamente Identiche Ovviamente Alla buco di culo Devo andare Dietro Perché Comunque Non ha La targa Davanti Come vedete Le tigri È targata Questa Ragazzi E le tigri È targata Quest'altra Quindi Come ho già detto Consiglio Una targa Personalizzata Oppure Invisibile Ragazzi Qui vi faccio Vedere l'ora Non guardate Le cosce Della tipa Perché non è il caso Vi faccio vedere La data E l'ora In cui ho registrato Il video A conferma Che è ancora Funzionante Che funziona Benissimo Detto questo Ragazzi Non ho Veramente Nient'altro Da aggiungere Mi raccomando Gruppo Telegram E un saluto A tutti Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti